L'inflazione annua nell'eurozona scende all'1,5% a marzo, secondo i dati di Eurostat. A febbraio si era attestata al 2%. L'energia registra l'aumento maggiore, più 7,3%, seguita da alimentari, alcol e tabacco. In Italia, dopo quattro accelerazioni consecutive, i prezzi al consumo sono saliti dell'1,4% su base annua, un ritmo inferiore però rispetto a quello registrato a febbraio. Tornando all'eurozona, la Banca Centrale Europea conferma una leggera risalita dei tassi sui muti per l'acquisto delle abitazioni. A febbraio il tasso medio è pari all'1,85% in crescita di quattro punti base rispetto a gennaio. Invariato il tasso medio sui prestiti alle imprese.